Maggiore sicurezza nei cantieri, contrasto al lavoro nero, maggiore trasparenza e legalità al centro del protocollo d'intesa sottoscritto questa mattina e voluto dal prefetto di Salerno Francesco Russo. Attorno allo stesso tavolo nel palazzo del governo il prefetto ha messo insieme l'ispettorato territoriale del lavoro, l'ASL, IMPSE e INAIL ma anche le associazioni datoriali di categoria dei costruttori, la cassa edile, gli ordini professionali, le organizzazioni sindacali oltre che i rappresentanti delle forze dell'ordine. Il documento rappresenta il punto di arrivo di un percorso iniziato alcuni mesi fa quando nel pieno della pandemia la prefettura di Salerno aveva dato impulso ad un'attività straordinaria di controllo ad opera degli organi preposti alla vigilanza nei luoghi di lavoro. Bisogna affermare i principi della legalità, la vigilanza dei casi significa combattere la concorrenza sleare, significa combattere le infiltrazioni nel campo economico, lo si può fare attraverso strumenti sempre più raffinati e questo lo è, che mette a disposizione un osservatorio e quindi di conseguenza anche una banca dati da verificare da parte di tutte le forze di polizia e attraverso un rafforzamento della collaborazione. Siamo sempre in una linea che è l'unica che può dare un segnale importante ai cittadini, collaborazione tra le istituzioni per raggiungere i risultati sempre più profondi di legalità. L'accordo nato in collaborazione con Ance prevede la creazione di una piattaforma per la gestione del cantiere attraverso una software house messa a disposizione dalla Cassedile Salernitana. Siamo fieri di aver messo a disposizione della prefettura e degli enti coinvolti nel gioco della informativa della notifica preliminare, un servizio web su base cloud per implementare le notifiche preliminari che oggi vengono effettuate cartaceamente, quindi con una proliferazione di carta, mail, posta elettronica e posta raccomandata che spesso perviene anche illegibile con campi non compilati. Quindi questo dà dei problemi agli organismi di controllo per direzionare le loro indagini e quindi per pianificare tutta l'attività di controllo. Altro punto chiave dell'intesa è rappresentato dalla pianificazione di controlli periodici a carattere straordinario di tipo congiunto, destinati soprattutto ai cantieri non dichiarati, a quelli ritenuti a rischio sensibili che vedano coinvolti organi di vigilanza e forze di polizia. Cerca anche di realizzare un'intelligence condivisa e di operare interventi congiunti in modo da in qualche modo implementare le risorse sul territorio e cercando anche di superare un pochino la carenza di risorse, quindi attraverso interventi congiunti si realizzeranno interventi mirati e più efficaci e più capilari sul territorio. Grazie a tutti.